prolocovignanello.org e questo è il sito internet dell'associazione turistica Proloco Vignanello. A questo punto immediatamente troviamo Raduno Camper e clicchiamo qui. Eccoci qua, siamo nella pagina con le informazioni per l'undicesimo Raduno Camper Memorial Francesco Annesi dove ci raccontano tutto quello che c'è da sapere. Qui mettono, clicca qui per compilare il modulo di prenotazione online, ecco qui c'è anche lo sponsor che è il concessionario di Magliano Savina, Camperland, qui ci sono i contatti come vedete sulla destra, tutte le persone che si possono chiamare e qui abbiamo prenotazione Camperraduno e noi clicchiamo qui, ma nella stessa maniera ricordiamo che possiamo cliccare anche qua sotto. e arriviamo su questa pagina. Qui c'è, vi aspettiamo, quindi nome, io metterò Luca Stella, email, città, Cinisello Balsamo, numero telefonico, targa X a 0, lunghezza Camper, in questo caso una caravan è 9 metri e 12 centimetri, numero equipaggi siamo in 2, numero dei campi, in questo caso una caravan è 1, data di arrivo, noi arriveremo venerdì, quindi qui arriveremo venerdì 11, ora di arrivo, presumibilmente diciamo che arriveremo per le 12, a occhio, direi che potrebbe... notte, trattasi non di camper ma di caravan, ma mi hanno detto che fa bene lo stesso, queste sono le note, messaggio niente, ho accettato, accetto e c'è l'invia e quindi qua si schiaccia invia. ecco, abbiamo schiacciato invio e qui dice che praticamente il modulo è stato compilato, tant'è che lo spiega proprio, dice grazie a aver prenotato, che confermiamo la sua partecipazione, dà le indicazioni su Google Maps, dice gli orari di aperto, insomma c'è tutte le informazioni che servono in questo caso. grazie